bentornati bentornati paro dispo paro e chi me pio bsv fuori casa va bene bsv che vuole vincere tutto oh zavi cazzo i massi i maglietti cambiamose le maglie ma perché sono tutti grassi cambia maglia mamma mia non si può giocare dai così mettiamo la nera va seleziona la lato vabbè brutta stiamo io come un cammello portiere in attacco eh si portiere in difesa ma lasciate questo questo è un arcollo il papi si chiamava questo coltura io ho il tuo futuro un arcollo siccome è un testino è un po' scema è un po' che io non l'ho vinta per caso ho persa di vita questa si ma si 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 Vabbè, ce stiamo. Sì. 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 È andato... Un'altra anno o due anni fa? Hai anche boscaglie. Boscaglie. Questa era... Era un bel giovane. Oh, Vinicius. Pensavi che a me piace proprio. Vinicius. Bruma. Questo ho già il nome core. Anche Odiz. Felicità 89. Lo posso mettere Ronaldo? No. È Ronaldo quello vero, però, eh? Ronaldo... Luiz Nazario Dalì, ma... No, no. Dai, c'è 78 euro. Non ti permido. Ronaldo. Ronaldo. Ma... Ma perché sta al PSV, Ronaldo? Ma che cazzo? Ma chi ci ha messo al PSV? Te... Pazzo sclerotico! Perché? Io. Mi sono andato al Cruzeiro. Mi sono andato al Cruzeiro. Che cazzo? Ma perché al PSV ho messo? Ma è lui, lui? Eh? È lui? Sicuro? Sì, sì. Cioè, poi, poi c'è nato al PSV. Ma c'aveva 18 anni. Un momento del calcio d'inizio con lo Shakhtar Donetsk che ha fruttato il PSV. Oh. Hai idea, eh? Sì. Buongiorno. Questo Shakhtar già sta a giocare troppo. Oh, questo con i capelli bianchi c'è tutti l'anni, oh. Sì. Marlos. Sì, è lui, eh. C'è tutti l'anni. Gioca dal 99 al Shakhtar, oh. Che è sempre più forte. Sempre più buggato. Oh. Oh, di testa non ho fatto uno. Più, più, dimmelo. Sia la confusione che la parata. Ma la gozza vola, oh. Ma pure il Shakhtar vola. Ma ho aspettato. Passiamo qua. Ma che c'era sto giochi? Ma mia gocce? Eh? C'è un champagne? Ah, no, porca troia. C'ho messo due ore, c'ho messo. Mi levi questo cartellone? Eh? Eh? Pan Ginkel. Pan Ginkel. Porca. Meno male. Un attimo prima eravamo fatti. Qui? Ma è corri. Il Witzel Kobe? Il Witzel Kobe? Il Witzel Kobe allora? C'è? 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 la faccia che faccia c'è la faccia sua la faccia sua si sia uguale ho fatto proprio uguale cazzo ragazzi su salve palle ma non è un palle c'è tutto qua tu oddio avrò sin aver visto il cover voglio venire no questa pure sera meno uno finisce bravo lo conosciamo ormai ehi niente di testa porco di testa di mettere bene che non è che a palombella la p ci stanno i difensori a piano l'ora in mezzo che non produce risultati parti che ti chiami brumacori se guarda il tuo ma che c'hanno mamma mia ma mangiato no come cazzo fa una pialla così porco tutti storti giro parla in attesa che si aprono gli spazi arco dio con ginocchio aprieto potrebbero portarsi in vantaggio se sfrutteranno questo tiro dalla bandierina i tifosi avvertono l'importanza del momento e provano a trascinare la squadra verso il gol di franzo di difficoltà qui attenzione ma so arbitro daian cartellino per primo eh perchè noi ne fammi i falli generalmente o se sbagliamo proprio tempo o se no ne lo famo apposta in senso come gli stupidi bravissimo che era? da bruma rigore così si ti va a piacere va a piacere strippare eh? ha toccato a cormiglio la rigore si vabbè si salopon ma vedi è ebreo ecco video bloccato ecco il match come vediamo dal dato sul possesso palla è un po' bloccato le due squadre pensano più difficile mamma mia vini giusta sede legno non pensavo che era così gruma dice di no con quest'intervento però pure lo favorito come lo so occhio al filo della battierina intervento del portiere che allontana rettifico 0 a meno 10 più dei due gol si fanno tocca metta in quarto della partita io prima o poi sulla stanchezza lupi ma puntavo a rigore approfittano bene qui dell'ingeguità dai cazzo no niente marco da bruma e svegliale tacciacci tua tacciacci tua tacciacci l'arbitro dice che può bastare 0-0 dove va a finire il sede eh 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 la prima giornata di champions niente manca giro entro ha preso bravo ha spazio per avanzare porti e fai questo cazzo ha una piano maio buona gara bravissimo troppo troppo pellone che viene intercettato stefaneetto scordi marco tu a voto proprio non riesce a liberare su questo cross cosa fai ma cos'è mamma Ma ancora? Ce l'avrei bagnato Ma rimane il suo grande riflesso Ma chissà Perchè Questa è proprio 0-0 Una merda Convento per PSV era un po' più forte Ma andai scinta Ma andai scinta Ma come cazzo l'hai presa Mamma mia Ma che tocca fare con questi portieri Intermette efficace a liberare Ma andai come lo sapevo Miracolo Ma tocca abbassare davvero? Oddio 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 Che schifo Che cristiano Che segna solo per bucio di culo Precisione Precisione pura Ma perchè devo dire così? Questo però doveva Chi ha vinto? Ma di che? C'ha pure 91 di velocità questo Ha tolto l'ammonito L'ammoniaca E rivediamolo C'è una sigaretta mangiucchiata Mietà mia Fumadetta L'ammoniaca Ma che gol è? Primo gol di testa Incredibile Così devi segnare Bucio di culo La parata di prima E' imbarazzante De che? Pensavo che era entrata E il bug Era uscito D'Arnulla invece Che sembrava dentro proprio Quella tua di prima Ti vorrete bucato Oddio Faglielo Niente manco così Manco così Tu c'hai i trucchi Sì Mai ricercato Guarda che il pallone Mo' che entra Gossi è comunque Troppo forte La pippa Ma come cazzo Fai a tirar così Azzà Oddio Calmi Ma scelgo sempre Le squadre sbagliate Nooo Che stai mangiando Nooo Ecco Mo' segnete sicuro E beh E' fresco Regà Ottantunesimo Abbiamo sesto pareggio E che cazzo E che cazzo Brivido Che fatica Che fatica Io Note Che faccio un gol normale Dall'altro anno Porco Maldizione 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 Buono